Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo piccolo tutorial di spiego come risolvere il problema riguardo che quando vai ad aprire i documenti oppure quando vai a creare un nuovo documento file quindi documento di testo quando vai ad aprire il documento ne escono più documenti quindi se di testo ci clicco sopra ed eccoli qua a me servirebbe solo questo documento però se ne apre un altro e questo mi dà anche fastidio lo sto riscontrando dagli ultimi aggiornamenti io volevo fare questo tutorial su come risolvere il problema quindi in questo caso invece di far uscire un altro documento con un'altra scheda qua sul desktop è possibile risolvere il problema andando su impostazioni apri un'altra finestra apri un'altra una nuova scheda chiudi qua e adesso apro così il documento non dovrebbe più uscire qui ok esce solamente uno solo però escono poi le schede ed eccolo qua oppure possiamo fare apri una nuova finestra ed eccolo qua da questo video vi è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo all'apertura di più documenti in una nuova scheda oppure un'altra finestra iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao